Il corso di laurea in giurisprudenza è un corso di cinque anni che prepara le professioni tradizionali avvocatura notariato magistratura con un ulteriore tirocinio ed esame di stato o concorso ma non prepara solo quelli di giuristi e giurista c'è bisogno dappertutto nelle strutture pubbliche private in tutti quegli ambiti che ogni giorno si confrontano dinamicamente con un tessuto di norme internazionali e nazionali sempre più complesso. Dopo una formazione comune nel primo triennio il piano di studi si differenzia seguendo gli interessi e le vocazioni individuali. Tre percorsi, professioni legali, avvocato d'affari, esperto legale di enti pubblici e terzo settore e c'è anche un pacchetto di esami interamente in lingua inglese. Si prevede anche la possibilità di accedere a tirocini e tirocini di eccellenza presso enti, imprese e istituzioni giudiziarie. Un apposito accordo con l'ordine degli avvocati di Bergamo consente di anticipare un semestre della pratica nell'ultimo anno dell'università. I dati sul tasso di occupazione post laurea sono pienamente soddisfacenti.